Siamo al primo dei quattro appuntamenti qui ad Union Moda dell'estate nell'orto. Cos'è l'estate nell'orto? L'estate nell'orto è un progetto che è nato dall'azienda agricola Ortisti di strada e dall'associazione Ecofatto con la volontà di diffondere degli stili di vita sani. Union Moda ha sposato questa progettualità, da tempo lavora per il benessere delle persone che è un benessere nel loro caso non legato al vestirsi bene, quindi al sentirsi bene col proprio corpo ma che ha travasato sul benessere anche della persona quindi della salute e anche dell'ambiente che ci circonda. Quindi è nato questa partnership, chiamiamola così, un programma di eventi dove i bambini ma anche gli adulti possono sia divertirsi e toccare con mano quello che accade all'interno dell'orto quindi ci sono delle letture, laboratori dove si può impastare, insomma si capisce da dove viene la farina la si può lavorare fino a realizzare delle piadine che i bambini poi possono degustare si andrà a raccogliere gli ortaggi direttamente nell'orto, negli orti che sono stati fatti qui da Union Moda si porteranno all'interno del negozio nel bar per centrifugarli e fare degli estratti addirittura da far assaggiare i bambini quindi è un po' l'obiettivo è quello di riuscire a far capire da dove vengono le cose, quanto è importante mangiare sano e adottare uno stile di vita corretto. Tutto questo ovviamente secondo i criteri dell'agricoltura biologica vengono realizzati gli orti, significa che quindi c'è anche una tutela del territorio e quindi c'è anche una grande didattica dal punto di vista ambientale quindi è un modo per divertirsi parlando anche di cose serie. I prossimi appuntamenti saranno nei prossimi quattro sabati, oltre quindi la giornata di oggi nei vari appuntamenti si alterneranno da giochi di magia quindi si giocherà un po' attraverso dei maghi con le verdure altre letture, ci saranno attività legate appunto a come si riutilizzano i rifiuti e poi ci sono i giochi di una volta, quindi il discorso è anche legato alla tradizione quindi è fondamentale per noi far capire, insomma non perdere il passato e cercare di travasarlo in maniera sana nel futuro. Questo progetto è nato appunto da questo legame tra Union Moda insieme a Ortisti di strada, azienda agricola, l'associazione Ecofatto e la spesa giusta che fondamentalmente sono tutti attori che vertono insomma verso la promozione di produttori del territorio e di prodotti del territorio perché è da qui secondo me che può ripartire una sana economia e una sana occupazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!